Ciao ragazzi, bentornati con Pillole di Ritmica, bentornati sul mio canale YouTube e prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi. Allora, oggi vediamo insieme quattro barre ritmiche, questa volta iniziamo a vedere insieme le barre ritmiche che riguardano gli ottavi e i sedicesimi, quindi non avremo più quarti e sedicesimi, ma ottavi e sedicesimi. Prima barre ritmica di oggi che andiamo a vedere è composta da nel primo quarto due ottavi, nel secondo quarto due ottavi, nel terzo quarto due ottavi e poi una quartina di sedicesimi. Quindi solfeggiata con il nostro counting batteristico diventerà Gli accordi che andremo ad utilizzare all'interno di questo video saranno quattro, ne faremo uno per ogni misura, la velocità sarà sempre 60 bpm, sempre con batteria e metronomo. Allora il primo accordo che andremo a visualizzare sarà Do maggiore, poi avremo Fa maggiore, La minore e Sol maggiore. Il tempo che utilizzerò è sempre 60 bpm, come in tutti gli altri video, e ci sarà sempre la batteria ed il metronomo. Andiamo a suonare insieme la prima barra ritmica. Ok, seconda barra ritmica di oggi invece è composta da nel primo quarto e nel secondo quarto due ottavi, quindi due due neri di ottavi, poi nel terzo quarto abbiamo una quartina di sedicesimi e nel quarto quarto di nuovo un aduino di ottavi. Solfeggiato sempre ritmicamente con il nostro counting diventerà One and, two and, three and a four and, one and, two and, three and a four and. Sembra il stesso giro di prima, sempre 60 bpm. Andiamo a farla insieme. Alla prossima. Terza barra ritmica, che andiamo a vedere oggi insieme, è composta nel primo quarto da una duina di ottavi, poi abbiamo una quartina di sedicesimi nel secondo quarto, poi duina di ottavi e anche nel quarto quarto duina di ottavi. Con il nostro solfeggio ritmico sarà One and two and a three and four and One and two and a three and four and One, two, three Quarta ed ultima barra ritmica di oggi, che vediamo insieme, è composta nel primo quarto una quartina di sedicesimi, poi nel secondo, nel terzo, nel quarto quarto, una duina di ottavi. Quindi con il nostro solfeggio ritmico diventerà One and a two and three and four and One and a two and three and four and Sempre 60 bpm, sempre metronome e batterie insieme, sempre lo stesso giro che abbiamo utilizzato fino adesso. Quindi Do, Fa, La minore e Sol. Andiamo One and one and two and four 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 bene anche per oggi abbiamo concluso vi ricordo sempre di provare a farle anche a velocità diverse quindi non solo 60 bpm ma di poter di provare a farle anche a 55 50 58 70 80 90 100 eccetera 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 provate per esempio a prendere queste barre ritmiche come vi ricordo sempre ed inserirle magari in dei pezzi che vi piacerebbe suonare o provare a suonare e quindi creare delle ritmiche appunto con queste pillole questi spunti che vi do ci vediamo nel prossimo video e vi auguro una buona settimana a tutti ciao ragazzi